Musica Per Dentro la Franciacorta ci troviamo questa sera al Teatro Rizzini a Cazzago San Martino per parlare di cambiamenti climatici. Lo facciamo con un esperto del settore, il dottor Paolo Corazzoni. Paolo, innanzitutto, come è variato il clima mondiale e quanto questo cambiamento è colpa dell'uomo? Sì, purtroppo ci sono evidenti dimostrazioni che le cose stanno cambiando e dico purtroppo perché stanno cambiando a tutti gli effetti in peggio. Quindi abbiamo un riscaldamento innanzitutto globale del pianeta con un aumento delle temperature ormai misurato e registrato. Quindi non si tratta di ipotesi, questo purtroppo è un dato di fatto. E questo sta comportando le conseguenze anche scioglimento dei ghiacciai, sia quelli montani sia anche quelli di Artide e Antartide e poi anche una ridistribuzione delle precipitazioni. Lo stiamo vedendo anche noi in questi ultimi mesi con il nord Italia che soffre di una siccità che non si era mai vista prima in un periodo dell'anno così. Quindi sono tante le conseguenze e purtroppo la situazione non sembra migliorare al momento. Le cause a tutti gli effetti sono principalmente imputabili all'uomo che con l'inquinamento, con l'aumento dei gas serra sta facendo salire le temperature in tutto il pianeta e di conseguenza, come vedevamo, anche con conseguenze macroscopiche sulla meteorologia e sul clima. Una siccità che dura da più di 100 giorni. Quali prospettive future? Purtroppo nell'immediato non si vedono grandi perturbazioni raggiungendo il nord Italia. Quindi la paura è che anche il mese di aprile possa essere più secco della norma. Se fosse così i problemi sarebbero da avere enormi in un momento dell'anno in cui c'è tanto bisogno d'acqua soprattutto per l'agricoltura. Però non è detta l'ultima parola, in realtà la speranza è che aprile ci porti precipitazioni un pochino più marcate. In generale comunque appunto questo episodio si inquadra in un discorso più generale di cambiamento climatico che deve preoccupare perché una volta è la siccità, una volta è l'alluvione, una volta è il caldo e insomma qualcosa che non va per il verso giusto purtroppo. Meteo.com nasce a Cazzago e questa sera ha presentato una serata dedicata al cambiamento del clima. Come è nata questa idea? Allora la nostra idea è nata principalmente perché il nostro obiettivo è quello di divulgare la nostra passione, quindi la meteorologia, anche a livello regionale e provinciale. Nel nostro piccolo cerchiamo sempre, adesso anche dopo il Covid possiamo ricominciare a parlarne, di parlarne appunto con il pubblico di queste nostre serate in cui cerchiamo di portare a conoscenza quello che è il cambiamento che sta avvenendo e che un po' tutti ci siamo accorti di questa situazione. Protagonista della serata, Paolo Corazon, esperto di meteo. Com'è nato questo incontro? Con Paolo abbiamo già collaborato anche negli scorsi anni. Poi il nostro grande punto di forza che ci chiamiamo Meteo Passione, lui è un grande meteo appassionato quindi quando gli abbiamo fatto la proposta di venire da noi questa sera è stato molto felice di partecipare. Concludiamo con una battuta. Com'è iniziata questa tua passione per il meteo? Inizia da piccola, perché si nasce meteorologi, non si diventa. Quindi sin da quando ero veramente un bambino, 4-5 anni, arrivavo al temporale, ero attaccato alla finestra a guardarmi i fulmini, o c'era la neve e andavo giù a prenderla tutta. Quindi nasce proprio con una passione personale e poi lo studio mi ha portato a approfondire tutte le mie conoscenze e un pizzico di fortuna mi ha fatto poi entrare in questo mondo grazie anche al colonnello Giuliacci. E ora a Trevi Metto ho trovato la mia casa. Un saluto per gli amici di Radio Bruno. Beh, un saluto veramente affettuoso e mi raccomando, combattete anche voi per l'ambiente. Dobbiamo farlo tutti assieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.